Il turismo può diventare il motore per lo sviluppo anche occupazionale del Molise, ne è convinto l'ex presidente della regione Michele Iorio che ha presentato una proposta di legge per riorganizzare l'intero settore. Iorio non nasconde le sue perplessità sul piano strategico del turismo approvato dall'Aggiunta regionale. Proposte e soluzioni estemporane non sono idonee per riordinare il settore turistico, ha detto. Sì, io ho ripreso una nostra proposta dell'Aggiunta di centrodestra che a fine legislatura presentò questo riordino del sistema turistico, poi non fu più approvato dal Consiglio regionale. È necessario riprendere un discorso legislativo che riguarda il settore più delicato per lo sviluppo di questa regione, soprattutto alla luce degli eventi sulla situazione industriale del Molise che mi sembra veramente in una situazione di estrema difficoltà. Credo che il turismo, che è una forza endogena di questa regione, che abbiamo a disposizione e che non sfruttiamo a dovere, ha bisogno di una regolamentazione per legge. La legge prevede, oltre alle competenze della regione, degli enti locali, ma soprattutto due strutture fondamentali e innovative che sono l'ADMO e il distretto turistico d'impresa, che sono la programmazione e l'attuazione dell'attività turistica in regione. Rispetto al piano strategico per il turismo parato dall'Aggiunta regionale, come si inserisce questa proposta di legge? Ma questa è una proposta di legge di riordino del sistema, non è per la creazione o la nascita di un progetto di sviluppo, si tratta cioè di dare alla regione quella stabilità legislativa, perché ciascuno riconosca i propri ruoli per legge, non per partecipazione o meno a una conferenza. Per farlo occorre una regolamentazione per legge, perché non si può continuare con attività estemporanea. La Molise Dati, società in house, come entra in questa proposta di legge e che dovrebbe fare? Entra nel distretto turistico d'impresa con una quota limitata, perché sarebbe una società di capitali, con il massimo del 5% del capitale da versare, perché sarà il braccio operativo di tipo tecnologico innovativo per quanto riguarda anche le capacità stesse di Molise Dati che possono essere ulteriormente sviluppate e rendere al sistema del turismo una competenza che può veramente fare il salto di livello, anche perché oggi, ancora oggi, siamo di fronte a strutture del turismo commissariate sostanzialmente inesistenti e viene lasciato tutta l'estemporaneità del momento.